Nel corso della notte scorsa, oltre 500 tra agenti della Polizia di Stato appartenenti alle squadre mobili delle questure di Catanzaro e Crotone, i carabinieri del ROS, del reparto operativo nucleo investigativo di Catanzaro e finanzieri del nucleo di Polizia Tributaria della Compagnia di Crotone, con il concorso dei rispettivi uffici e comandi centrali, hanno tratto in arresto 68 persone destinatari di un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Catanzaro a carico di altrettante persone accusate di associazioni di tipo mafiosa, estorsione, porto e detenzione illegale di armi, intestazione fittizia di beni, malversazione e danni dello Stato, truffa aggravata, frode in pubblico e forniture e altri reati di natura fiscale, tutti aggravati dalla modalità mafiose. I provvedimenti, disposti dalla Direzione Distrittuale Antimafia guidata dal Procuratore Capo, il dottor Nicola Gratteri, a seguito di indagini coordinate dal Procuratore Aggiunto e il dottor Vincenzo Luberto, hanno smantellato la storica e potentissima cosca di indrangheta facente capo alla famiglia Rena, al centro di articolati traffici delittuosi nelle province di Catanzaro e Crotone. Dalle investigazioni, oltre alle tradizionali dinamiche criminali legate alle estorsioni capilarmente esercitate sul territorio catanzarese e su quello crotonese, è emerso anche che la cosca controllava, a fini di lucro, la gestione del centro di accoglienza per migranti di Isola Capo Rizzuto e coltivava ingenti interessi nelle attività legate al gioco e alle scommesse.